Nicola? Nicola? Devo parlarti? Scusa siamo andati apposta qua a fare un giro puoi parlare in mezzo ai fiori, in mezzo al bosco, in mezzo a questo bellissimo parco eh sì lo so però mi torna molto difficile chi è che torna? mi torna molto difficile parlarti dirtelo vabbè dai che ci vuole basta che parli e mi dici le cose come stanno qual è il problema? Dirtelo che la nostra relazione finisce qui che cosa? sì la nostra relazione finisce qui ti lascio a chi mi lascia? a te a me mi lasci ma che cosa stai dicendo scusa non è possibile che mi lasci e dai non è possibile non è giusto scusami io che ti sto sempre vicino nei momenti bui nei momenti tristi nei momenti particolari quando è morto tuo padre ci sono stato sempre vicino e quando hanno ricoverato tua madre io stavo sempre vicino a te e quando ha fatto l'ingidente tua sorella dove stavo io vicino a te e poi e poi quando è morto il cane io stavo vicino a te e soprattutto quando hai perso il lavoro dove stavo io vicino a te e tu e tu per tutto questo mi lasci eh non è giusto appunto tu sei una tenda gnome sparisci dalla tua merda vicina